Entro fine mese è previsto l'avvio da parte di Edison della bonifica della discarica a Tremonti, la prima a essere sequestrata dai forestali a marzo 2007. Il progetto, che prevede la rimozione dei rifiuti per circa 110.000 metri cubi, fu approvato l'agosto 2018 dopo un duro braccio di ferro in conferenza dei servizi al Ministero, tra Edison che proponeva di lasciare lì rifiuti mettendoli solo in sicurezza, gli enti locali e il forum H2O che chiedevano con forza l'allontanamento dei rifiuti da un sito prossimo al fiume di Pescara. Con questa presa di posizione netta, il Ministero con la dirigente Laura D'Aprile impose la rimozione. Intanto sabato 20 novembre alle 10.30, con appuntamento alla stazione di Bussi, ci sarà un incontro rivolto a cittadini, organizzato dal forum H2O per fare il punto della situazione sullo stato delle bonifiche del sito nazionale, proprio per le bonifiche di Bussi. Sarà l'occasione anche di ricordare l'ex generale Guido Conti.